Buongiorno amici e amiche, eccoci qua di nuovo presso la sede della Fondazione Maria Guerino Amoronlus, con noi la dottoressa Margherita Luongo, dottoressa Amoronlus ormai è una fondazione di livello nazionale sta crescendo esponenzialmente, siamo presenti quasi su tutto il territorio nazionale, giusto? Sì, buongiorno, fortunatamente stiamo crescendo su tutto il territorio nazionale, abbiamo anche attivato ed è in corso un master universitario di secondo livello con l'Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli abbiamo nuovi medici per le altre regioni e quindi cerchiamo sempre di più di crescere e di aiutare i nostri piccoli e grandi guerrieri Siamo in compagnia del dottore De Gasperis e della sede di Nomara di Amoronlus, dottore, cosa ha spinto lei a far parte di questa grande famiglia? Il fatto che io abbia già alle spalle otto anni di volontariato come medico volontario nei paesi del terzo mondo attualmente io presto opera come medico volontario presso un'associazione di Borgomanero che raccoglie numerosi medici di ogni specialità e quando sono stato contattato da Amoronlus mi è sembrata la logica conseguenza di un percorso di volontariato che ho cominciato più di vent'anni fa Che risultati sto ottenendo con questa nuova pratica? I risultati dal punto di vista umano sono elevatissimi anche perché le pratiche che noi facciamo sono fatte nei confronti di pazienti che hanno un determinato tipo di patologia sono molto contento di fare parte di questa associazione perché ho trovato una grandissima carica umana pari a quella che è la preparazione scientifica Grazie a tutti